La deposizione di una corona al recuperato monumento a Giovanni Marini è stato il gesto con il quale a Pistoia è stata ricordata la figura del militare. È caduto nella piazzetta lui dedicata davanti alla chiesa di Sant'Agostino dove nel 1938 venne retto in sua memoria il monumento. L'iniziativa è stata dall'Istituto Nazionale Nastro Azzurro di Pistoia e della locale sezione dell'Associazione Nazionale Paragodutisti d'Italia, artefici due anni fa della risistemazione del monolito intravertino che lo ricorda con il patrocinio del Cudir e del comune di Pistoia. Marini, 25enne, caporal maggiore dell'83esimo reggimento Fanteria Venezia che aveva sede proprio a Pistoia, morì nella guerra d'Etiopia e nella battaglia di Selaklakla il 29 febbraio del 36 venendo poi insegnito alla memoria della medaglia d'oro al valor militare. Che valore ha oggi ricordare Giovanni Marini? Il valore di quelle persone che con grande coraggio si sono immolate in battaglie che oggi vengono ricordate. Questo è un piccolo monumento ma molto significativo. La medaglia d'oro a valore militare rende onore alla figura che recentemente grazie al Nastro Azzurro devo dire è stata rivalutata, è stata riscoperta. Marini è intitolata la caserma di Viale Italia, oggi casa del 183esimo reggimento Paragodutistine in bui cui vertici con al fianco autorità locali pistoiesi, corpi che operano sul territorio, associazioni combattentistiche d'arma, nonché discendenti del militare, hanno partecipato alla cerimonia di Sant'Agostino. Non dimentiamo che la stessa famiglia Marini è una famiglia di eroi. Il padre Ottavio è stato medaglia di bronzo al valore militare nella prima guerra mondiale. Per cui è giusto che Pistoia ricordi anche i propri eroi dimentiati, perché la provincia pistoiese, non dimentichiamo, ha quasi 900 decorati al valore militare. Quindi è una terra di eroi.